Interpellanza 40.017, revoca del Consigliere di Amministrazione Ettore Filippi del CDA della Fondazione IRCS, Policlinico San Matteo, in iniziativa del gruppo Movimento 5 Stelle, presenta l'interpellanza e il Consigliere Nanni ne ha a facoltà. Grazie Presidente. Come molti di voi sapranno, nella notte del 12 marzo 2013, l'ex Vice Sindaco di Pavia è stato arrestato con l'accusa di corruzione. Il giorno in cui è stata scritta e poi depositata questa mozione, Ettore Filippi Filippi siedeva anche all'interno del Consiglio di Amministrazione della Fondazione IRCS, Policlinico San Matteo di Pavia. La Fondazione IRCS, Policlinico San Matteo, trae, come tutti sanno, i mezzi finanziari, soprattutto grazie ai contributi erogati dalla stessa Regione Lombardia. Le nomine dei componenti del Consiglio di Amministrazione vengono fatte con decreto del Presidente della Regione Lombardia. In prevalenza i componenti sono designati dalla stessa Regione, un componente viene designato dal Presidente della Provincia di Pavia, un componente dal Sindaco del Comune di Pavia ed uno dal Ministro della Salute. Ettore Filippi Filippi fu designato, incautamente devo dire, dal Sindaco di Pavia. Ora, noi ci chiediamo, sappiamo che nel frattempo Ettore Filippi Filippi si è autosospeso, ma quello che noi chiedevamo alla Regione era un segnale forte, un segnale che i cittadini chiedono sempre di più a gran voce, ogni volta, e purtroppo è frequentissimo sui nostri territori lombardi, che avvengono arresti per ipotesi di reato come quelle della corruzione, che sono gravissime e per un principio di opportunità sarebbe stato corretto e auspicabile che fosse la stessa Regione Lombardia a revocare immediatamente dal suo ruolo di Consigliere di Amministrazione il Signore Ettore Filippi Filippi, anche perché con la revoca si sarebbe potuti procedere alla sostituzione e quindi il Consiglio di Amministrazione avrebbe potuto continuare ad operare nella pienezza dei propri componenti, mentre ora così non è, perché il membro è sospeso ed è sospeso, immagino, fino a che proseguiranno le indagini. Quindi ci chiediamo anche se alla luce di quanto accaduto, che per noi è gravissimo, come alla luce degli innumerevoli scandali giudiziari che hanno coinvolto esponenti dei Consigli di Amministrazione di società partecipate, ma anche esponenti di società che vivono dei sussidi, dei contributi e delle erogazioni di Regione Lombardia e di Enti, se Regione intenda attivarsi per intraprendere tutte le opportune azioni al fine di rivederli, signori, questi criteri e meccanismi di nomina nei Consigli di Amministrazione, per evitare quello che noi sappiamo già succedere, cioè la lottizzazione partitica a vantaggio invece della promozione della professionalità e della buona gestione e amministrazione. Chiediamo quindi nel rivedere questi criteri di prevedere anche ipotesi gravissime come queste in caso di arresti per reatti molto gravi come quello di corruzione, procedendo immediatamente alla revoca e rimozione del Consigliere di Amministrazione, che se poi nei tre gradi di processo fosse dichiarato innocente, può essere reintegrato all'interno del Consiglio di Amministrazione. Ma per i cittadini non è più plausibile accettare che le istituzioni debbano sempre attendere gli esiti delle condanne della magistratura, perché non si interviene immediatamente con un criterio di etica e di opportunità che prevederebbe di dare immediatamente segnale al territorio che consiglieri che si macchiano di queste ipotesi di reato vengano immediatamente rimorsi dagli enti di queste fondazioni. Grazie. Per la Giunta, Vicepresidente Mantovani, ne ha facoltà. Grazie, Presidente. Il 18 marzo scorso il Presidente dell'IRCS San Matteo di Pavia ha trasmesso alla Presidenza di Regione Lombardia copia della lettera con cui il componente del CDA designato dal Comune di Pavia dottore Filippi Filippi si è autosospeso delle attività del CDA a seguito della sottoposizione a provvedimento di misura cautelare personale consistente negli arresti omicidiali. Il CDA dell'IRCS San Matteo è composto da otto componenti, cinque designati da Presidente di Regione Lombardia, uno dal Ministero competente in materia di sanità, uno dalla Provincia di Pavia e uno dal Sindaco di Pavia. Il dottor Filippi Filippi è, come detto, il membro designato dal Sindaco del Comune di Pavia. Pertanto, non essendo nominato da Regione, non può essere revocato da Regione Lombardia. Con decreto del Presidente della Giunta regionale della Lombardia numero 12.787 del 23 dicembre 2011 si è provveduto, con atto meramente ricognitivo, a prendere atto delle designazioni espresse dai fondatori sulle quali Regione Lombardia non ha alcun potere di sindacato. Lo Statuto dell'IRCS, all'articolo 12, prevede espressamente che, se nel corso del mandato un componente del CDA venga a cessare per un qualsiasi motivo, è l'ente che lo aveva designato a dover provvedere senza indugio alla sua sostituzione. Peraltro, il provvedimento cautelare non è comunque causa di decadenza dalla carica. È la legge che lo stabilisce, al di là delle opportunità e delle ipotesi di cui il Consigliere ha parlato, né per le norme regionali, né per quelle nazionali, per le quali solo per alcuni tipi di reato, decreto legge 235 del 2012, si rendono necessarie almeno sentenze, anche se non definitive. Quindi è normato dalla legge il tema, peraltro una legge recente dell'anno 2012. In capo a Regione Lombardia non sono attestati, né in sede statutaria, né in sede legislativa, ulteriori poteri circa la gestione complessiva del CDA, che può invece essere sciolto con provvedimento invece del Ministro competente in materia di sanità, solo per cause tassativamente elencate, comportanti un detrimento al funzionamento complessivo dell'amministrazione stessa. Anche in considerazione del fatto che il CDA dell'Istituto può continuare pienamente a funzionare a maggioranza dei suoi membri, Regione Lombardia comunque intende prendere atto dell'autosospensione del Consigliere Filippi Filippi, invitando il Presidente del CDA a sospenderne l'erogazione del relativo consenso e ad attivare il Comune organo designante ad adottare eventuali provvedimenti in conformità alle regole su una nomina previste nell'ordinamento comunale. Infine, per le motivazioni sopraesposte, nessun collegamento sussiste tra il caso di specie e i criteri e le modalità di nomina previsti dalla normativa regionale all'interno delle proprie società ed enti dipendenti che, peraltro, prevedendo la pubblicazione di specifico bando per il reperimento delle candidature più idonee e la successiva valutazione delle stesse da parte dell'apposito Comitato tecnico, assicurano pienamente il rispetto delle esigenze di buona gestione e amministrazione esposte nell'interrogazione in oggetto. Resta invece che la segnalazione effettuata con la presente interrogazione è di sicura attenzione di Regione Lombardia per provvedere alla sua sostituzione. Ringrazio Vicepresidente Mantovani per la replica, consigliere Nanni, per non più di tre minuti. Grazie. Allora, lei diceva che la Regione non ha una competenza diretta in questo tipo di azione. È vero, è stato nominato dal Sindaco di Pavia, ma comunque con un decreto di designazione di Regione Lombardia. Il segnale che noi vorremmo dare, un segnale politico chiaramente con questa mozione, prendendo spunto da questo specifico caso, a cui lei però non mi ha risposto, era anche quello forse della necessità da parte di Regione di prendere spunto da casi gravi come questi per legiferare e rivedere questi benedetti criteri di nomina. Perché poi è vero, lei mi dice, ci sono dei bandi per le candidature, c'è un comitato tecnico che esamina. Però lo sappiamo, non prendiamo in giro i cittadini, che questi nominati vengono nominati sulla base di affiliazione partitica, a prescindere dal fatto che abbiano competenze o meno. E spesso non si va neanche a indagare sulla loro situazione, sulla loro specchiatura morale. Perché l'ettore Filippi Filippi a Pavia, per esempio, è molto conosciuto per anche altre questioni che non sto a citare in questa sede, però sono facilmente verificabili attraverso la rete o gli organi di stampa. Quindi quello che noi chiediamo, oltre quello che appunto lei mi ha già detto e sono soddisfatta di apprendere che verrà sostituito, cioè che l'autosospeso verrà comunque sostituito, per cui il Consiglio di Amministrazione sarà poi di nuovo a regime, è proprio di dare un segnale maggiore ai cittadini di intervento, anche politico, quando avvengono queste cose. Anche pubblico, per far capire ai cittadini che stiamo controllando questi enti, che ricevono finanziamenti pubblici, quindi delle nostre tasche, quindi maggiore controllo e criterio di revisione delle nomine all'interno di questi enti e delle società, perché tutto si può modificare se c'è la volontà politica di farlo. Grazie.